Ciao, io sono Pasquale. Oggi volevo trattare un argomento abbastanza delicato, molto delicato anzi, e portare alla tua attenzione un recente studio fatto su alcune persone che si ritrovano ad essere dipendenti dall'alcol, dagli alcolici. Lo studio pensa di aver trovato una metodologia che lega il consumo di una sostanza che è chiamata chetamina alla riduzione dei cosiddetti crampi da alcol, cioè a quella voglia rifrenabile di dover bere alcolici per forza. Per cui cominciamo con questo argomento, anzi prima di cominciare ti volevo ricordare che puoi lasciare un pollice in su se questo video ti piace e puoi iscriverti a questo canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo se ovviamente stai seguendo questo contenuto su YouTube. Bene, cosa è la chetamina? Si tratta di una molecola ampiamente utilizzata come anestetico, usato con prevalenza in ambito veterinario ma anche pediatrico e in tutte le tipologie di farmacologia che tendono alla riduzione del dolore e sotto sperimentazione tra l'altro anche sul possibile utilizzo nei disturbi depressivi e come anche un ansiolitico. Ma è anche e soprattutto come nello studio che porto alla tua attenzione oggi sotto studio appunto nelle terapie delle dipendenze. Ricordo che l'arcol etilico è una sostanza fortemente cancerogene e che pertanto qualsiasi siano le quantità che tu vai a utilizzare anche a scopo sociale possono portare e portano dei danni e un solo accarico al nostro sistema empatico che è una cosa tangibile e provata scientificamente. L'abuso di alcolici è stimato essere colpevole di oltre il 4% delle morti totali mondiali ed il 5% come causa di patologie croniche adesso connesso. Per cui puoi benissimo capire come un abuso di alcolici possa essere deleterio e fortemente dannoso per il tuo organismo. Per cui quello che i ricercatori stanno facendo è quello di fare in modo di poter intervenire sulle persone che hanno questa dipendenza cercando di serpare la problematica alla radice appunto prevenendone gli impulsi e prevenendo l'impulso di sentire una necessità del consumo di alcolici. Vari studi che trovi tra l'altro in descrizione qui sotto hanno dimostrato proprio come un utilizzo singolo di ketamina possa essere un fortissimo alleato nel combattere questa dipendenza. Ma come agisce la ketamina e come gli studi sono stati portati avanti e realizzati? Te lo dico breve ma prima di continuare ti volevo ricordare che mi puoi trovare su tutti i social networks. Io sono presente su facebook, su instagram e su twitter e se questi contenuti ti piacciono per favore condividili per farmi crescere e portare questo messaggio salutista a più persone possibili. Una piccola premessa la devo fare visto che la ketamina è anche utilizzata come una droga ricreativa. Il suo utilizzo avviene ovviamente solo attraverso prescrizione medica e con dei farmaci appositi che la contengono come principio attivo. Non si va al supermercato al banco della salumeria e si chiede 100 g di ketamina che poi sai benissimo come va a finire col tuo salumiere di fiducia che ti mette 300 g e ti dice che faccio lascio? Vabbè scherzi a parte non è che si deve prendere a casa prima di uscire tutte le volte così andiamo a bere poco ma si agisce con la ketamina solo in quei soggetti che abbiano appunto una storia di forte dipendenza dagli alcolici. Anzi perlomeno è quello che si vorrebbe fare se gli studi in corso dessero conferme sempre maggiori su questa terapia. L'ultimo studio che è stato portato a termine ha preso in esame 55 uomini e 35 donne che avessero appunto un consumo di almeno 30 pinte di birra a settimana che sono più o meno 15 litri a testa. Parlo di pinte perché questo studio è stato fatto nel Regno Unito. Una pinta la puoi semplicemente affiancare in termini quantitativi a una birra media in Italia. È qualcosina in meno ma ci siamo capiti. Queste persone erano tutte senza dipendenza diagnosticata dagli alcolici e per cui non ricevevano nessun trattamento specifico. Il primo step dello studio è stato quello di mostrare a tutti i soggetti delle foto di alcolici sia esse birra o liquori o super alcolici e poi è stato chiesto di quantificare quanta voglia avessero di consumare alcolici subito dopo. Poi a tutti quanti è stata offerta una pinta di birra. Successivamente sono stati divisi in tre gruppi diversi. Al primo gruppo veniva mostrata di nuovo l'immagine di un alcolico e poi veniva data una dose intravenosa di chetamina. Al secondo gruppo veniva mostrata una foto di un alcolico e poi veniva somministrata sempre una via per via indevenosa del placebo della chetamina. Altre il suo gruppo invece non veniva mostrata nessuna immagine ma gli veniva comunque somministrata una dose endovenosa di chetamina. Ora come si sono andati a comportare i tre gruppi tra di loro? Bene la cosa bella è che tutti i tre gruppi sono stati monitorati poi per i nove mesi successivi e tutti quanti sono riusciti a ridurre il consumo di alcolici nel tempo ma il primo gruppo cioè quello a cui erano state mostrate le foto con le birre e poi a cui era stata data per via venosa la chetamina aveva avuto i miglioramenti migliori che non è che si può dire ma aveva avuto i risultati migliori. Il consumo di alcolici era stato praticamente dimezzato i giorni in cui poi si consumavano alcolici erano stati ulteriormente ridotti. Inoltre il fatto di trovarsi di fronte a un alcolico a una birra anche a una mezza pinta veniva consumata con meno foga e quasi si sentiva meno voglia di consumarla per cui si può sicuramente considerare questa strada come una via iniziale da seguire per poter migliorare le terapie volte alle persone appunto che si trovano in una condizione di dipendenza ad alcolici. Si tratta ovviamente di uno studio molto piccolo che dovrà essere comunque ripetuto in maniera molto più ampia e con un maggior numero di soggetti e magari sicuramente per un periodo di tempo molto più lungo anche perché non l'ho detto prima ma lo dico adesso la chitamina a sua volta provoca dipendenza e in dosi non controllate può causare anche dei danni fisici soprattutto alla vescica ma sicuramente ci si trova di fronte a un piccolo spiraio per aiutare persone in difficoltà che hanno questa problematica. Bene mandami un'email ad infokioccio.letmifood.com oppure lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimenti su questo argomento o se hai altre domande su altri argomenti. Questi contenuti li trovi come sempre anche sotto forma di audio podcast su tutte le piattaforme che trovi qui sotto in descrizione. Ti invito anche a visitare il mio sito internet che come sempre è www.helpmefood.com. Bene anche per oggi ti lascio andare per cui mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti che come sempre è eat well, live well and smile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!